che vista spettacolare laggiù quindi di qua? aspetta giusto per andare sul ponticello si si ah 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 e ho visto che ce n'era uno che partiva di qua ah ok ho passato la conway alberto e io sono tornato alla vecchia ordea ah ah sì 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 io sono un esploratore nato ah 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 ma passa destra e dopo la pausa pranzo ci abbiamo una nuova discesa con le mucche rifacciamo stamattina ripartiamo dal primo il primo che abbiamo fatto siamo passati qua il primo giro che abbiamo fatto in assoluto sì stamattina abbiamo fatto più lentamente ovviamente cazzo non me l'aspettavo un salto che non mi sembrava io ne ho fatti un po' di più di qua adesso alcuni li ho fatti bene di nuovo ho sbagliato il peso ma atterrando così in avanti poi dopo cercando di mantenere l'equilibrio il peso ma il pelo mi sono taggato proprio sul mio